Ciao, voglio parlare in questo video di come gestire il desiderio verso una persona. Il desiderio può essere, diciamo, bellissimo, una sensazione bellissima, perché quando si desidera si mobilitano delle energie fondamentalmente. Il desiderio è fondamentale per riuscire a sentirsi vivi. Se non abbiamo più desideri non ci sentiamo nemmeno vivi. Una persona che non ha desideri entra in una fase, potremmo dire, apatica, una fase depressiva. Quindi il desiderio ti dà vita fondamentalmente. Però, c'è sempre un però, bisogna imparare a gestirlo, perché se il desiderio resta solo desiderio e non diventa possesso, la persona soffre. Ad esempio nelle relazioni sentimentali è quando desideri una persona e questa persona non è disponibile, oppure è disponibile in termini diversi da quelli che sono le tue aspettative, si entra in una fase di sofferenza fondamentalmente. Perché se il desiderio non corrisponde un possesso, ci, diciamo, viviamo una forte sofferenza. Il desiderio poi anche nelle relazioni sentimentali andrebbe sempre rinnovato, perché io devo desiderare, poi dopo che ho desiderato, che mi sono caricato, devo possedere, si rinnova un nuovo desiderio. Nella vita di coppia si possono rinnovare tanti desideri nei confronti di una persona, ad esempio. Ma nel momento in cui il meccanismo si inceppa, nel momento in cui tu desideri e non riesci ad ottenere, allora lì bisogna correre ai ripari, perché se poi il desiderio diventa eccessivo non si riesce più a gestire di fatto bene la situazione. Non si riesce a gestire più bene la situazione perché ci si nutre, ad esempio, di assenza di possesso. Quindi il desiderio cresce un po' come dire, è un po' come se io avessi un'auto che ha un motore molto potente, il desiderio, però non riesco a muovermi, perché ad esempio ho le ruote sollevate da terra. E allora cosa succede? Che più eccelera, eccelera, eccelero, più surriscaldo il motore dell'auto. E a un certo punto questo motore andrà in tilt, farà una bella fumata e avrò l'auto non più funzionante. Quindi le possibilità sono due. O agisco per prascendere l'auto e posizionare le gomme a terra, che vuol dire conquistare l'oggetto di desiderio, e quindi nel momento in cui lo conquisto si innesca un processo virtuoso fondamentalmente, oppure se non riesco a conquistarlo devo rallentare, spegnere il motore, vedere qualche cosa, non devo continuare ad alimentare quell'oggetto di desiderio, piuttosto devo cambiare l'auto. Quindi intanto bisogna tenere presente una cosa fondamentale, che la nostra parte emotiva di fatto non interessa tanto l'oggetto di desiderio in sé, interessa ciò che l'oggetto di desiderio riesce a produrre, riesce a generare. E quindi non cadiamo nell'illusione che esista solo un oggetto di desiderio. Noi abbiamo tante possibilità, abbiamo tante possibilità di scelte, dobbiamo sfruttarle. Quando un oggetto di desiderio diventa indisponibile e nonostante io abbia fatto, è giusto fare tutto quello che va fatto, ma poi se mi rendo conto che quella lì è una miniera dove l'oro non c'è, devo cambiare miniera, assolutamente, perché accanimento, l'accanirsi non funziona. Siccome nelle relazioni sentimentali, ad esempio, l'esigenza di amare è un'esigenza naturale dell'essere umano, l'esigenza di amare e di essere amati. Quindi andiamo naturalmente a ricercare oggetti di desiderio da amare, però se poi non riceviamo in contraccambio lo stesso amore, resta un ciclo che non si chiude. Possiamo provare a fare tutto, trovare tutte le strategie migliori di questo mondo, ma l'unica strategia vera, solida, è quella del rispetto verso se stessi. Il tutto va fatto imparando quella che possiamo chiamare l'arte del distacco del risultato, che significa abbassare il livello di desiderio, non essere bisognosi. Quindi posso desiderare, ma se vedo che dall'altra parte non c'è un riscontro, questa energia, perché desidero energia, devo canalizzarla su altro, devo canalizzarla su altre situazioni, devo parzializzarla, perché è molto meglio avere un'energia parzializzata che un'energia diretta univocamente. Quindi in questo caso dovrò iniziare a uscire con altre persone, a frequentare altre persone, senza aspettative, perché comunque nel momento in cui tu inizi a interagire con altri, intanto ottieni un grande risultato, che non sei più fissato su questa persona. E devi cercare di valorizzare le altre persone con le quali esci, cercare di capire veramente quello che ti possono dare. In questa interazione sicuramente se ne avranno dei benefici, in questa interazione sicuramente avverrà uno sgancio emotivo con l'oggetto di desiderio che non soddisfa quelle che sono le tue esigenze. Questo ti permetterà di rielaborare il tutto in un'altra ottica, perché agli oggetti di desiderio siamo noi che diamo potere, costruiamo questi vitali dorati che poi adoriamo. Dobbiamo buttare giù dal piedistallo il vitalo dorato, questo è indispensabile farlo per stare bene, per vivere bene. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo per la tua mente. Ciao!